Nell'ambito della programmazione fondi strutturali PON 2007-2013, l'Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri Leonardo da Vinci di Martina Franca realizzerà per gli studenti i seguenti corsi. Comunicazione e lingua straniera, comunicazione e lingua madre, i giovani e l'informatica, indovina chi viene a scuola, ho diritto ad avere diritti, il laboratorio dello storico, gli integrali, olimpiadi della chimica. Istituto Leonardo da Vinci, Martina Franca. Con l'Europa investiamo nel vostro futuro.